Ciao a tutti e tutte, sono Fabrizio Tesdorites, insegnante docente del corso breve di disegno artistico. Il corso breve è indirizzato sia alle persone che non hanno mai preso una matita in mano, che ha le persone che hanno magari un po' di confidenza ma che sentono l'esigenza di apprendere degli strumenti in grado di migliorare. A casa mi divertivo a fare il fumetto e con questo corso ho appreso le basi del disegno e ho visto che sono migliorata lezione dopo lezione e mi sono interessata molto alla tecnica del chiaroscuro e mi hanno interessato molto le lezioni sui ritratti, sulle foto dei ritratti. Il disegno, come le altre materie di studio, è una disciplina che necessita di anni di apprendimento. L'obiettivo dunque di questo corso breve è quello di fornire a studenti e studentesse tutti gli strumenti base affinché una volta finito il corso loro abbiano delle conoscenze sufficienti per essere insegnanti di se stessi e quindi sapere dove andare a parare per migliorare se stessi e se stesse in questo campo. Volevo in qualche modo avere un approccio un po' più tecnico rispetto a quello che è una passione dell'adolescenza e la cosa che mi ha colpita di più è stato il disegno dal vivo.